Sotto Buonasera a tutti, bentornati con noi in studio, buonasera Marco Buonasera a te Susanne e a tutti i nostri telespettatori Oggi il libro del mondo parlerà soprattutto di ambiente e cambiamenti climatici Iniziamo dall'appuntamento in Germania a Bonn con la COP23 che c'è in questi giorni, dura fino al 17 di novembre Un vertice che servirà per dare l'esecuzione, il via a quell'accordo di Parigi, la COP21 Per mantenere il riscaldamento globale al di sotto dei 2 gradi centigradi rispetto al periodo preindustriale È un appuntamento molto importante quello di questi giorni anche perché negli ultimi tre anni Secondo alcuni dati emersi praticamente il riscaldamento non ha mai toccato soglie così alte Tant'è che c'è stato un aumento di 1,1 grado nonostante le emissioni di CO2 in atmosfera Siano rimaste pressoché le stesse in questi tre anni Quindi è già un dato che ci deve far svegliare rispetto all'urgenza di questo appuntamento Appuntamento a cui l'Europa si presenta con alcuni obiettivi Che sono quelle di ridurre le emissioni di CO2 del 40% entro il 2030 Ed entro il 2050 ridurre invece dell'80% L'Europa da sola non basta, vediamo se già l'Europa nonostante i suoi obiettivi Sta effettivamente lavorando in modo serio per raggiungerli E vediamo che cosa fanno o devono fare le altre potenze Sì certo, noi sottolineiamo proprio con il libro del mondo l'importanza di intervenire politicamente, economicamente, socialmente, tecnologicamente Sui gas serra, sui gas climalteranti, in particolare l'emissione di CO2 Come dicevi tu è vero che negli ultimi anni la quantità complessiva di CO2 non è aumentata Però come mai aumenta allora il fatto che la temperatura continua ad aumentare? Perché c'è un effetto cumulativo Noi lo diciamo spesso quando parliamo di queste cose Che la scienza ha dimostrato che il mondo, la nostra Terra, è un unicum In cui l'atmosfera ovviamente è un'atmosfera che non può essere sovraccaricata troppo da una serie, da una quota di gas climalteranti e di CO2 Perché? Perché a questo punto avviene il cosiddetto effetto serra E l'effetto serra che è un effetto, diciamo così, di rifrazione dell'atmosfera, dei gas, del sole che battono sulla Terra, poi si rifrangono e poi vengono rispediti giù Aumenta la temperatura Aumentando la temperatura, giustamente tu hai detto di un grado e un centigrado Beh, sembra che dica, vabbè, individualmente uno dice mi attrezzo un po' di più E così No, perché come i nostri telespettatori sanno benissimo Poi ci sono effetti di conseguenza I cambiamenti climatici e quindi l'eccesso di temperatura che continua a crescere Provoca uragani, tifoni, cicloni ancora più potenti La polarizzazione cresce Crescono anche periodi di siccità in cui manca la pioggia Poi improvvisamente arrivano effetti molto più devastanti Che giornalisticamente vengono chiamate bombe d'acqua In realtà il fatto è che è l'attività umana che ha costruito troppo e male Che ancora usa troppo che cosa? E qui arriviamo al punto cruciale di scontro a livello economico e politico a livello internazionale O usa ancora troppo le fonti fossili Cioè usa ancora troppo carbone e usa ancora troppo petroglio E questo produce nelle varie attività Mobilità, trasporti, riscaldamento Oltre che ovviamente ci sono altre componenti come l'agricoltura e gli allevamenti Allora il problema è che bisogna intervenire dal punto di vista politico Dal punto di vista tecnologico, industriale della mobilità E lì occorre che ci siano gli stati, i governi che intervengano Allora la COP23 di Bonn, come dicevi tu 196 paesi in tutto il mondo Che concordano è che bisogna fare qualcosa sui cambiamenti climatici Però qual è il problema? Il problema è che l'accordo importante di Parigi, la COP21 Aveva detto che bisognava stare dentro un aumento non superiore all'1,5 gradi centigradi Il problema è questo Che lasciava però alla volontà dei singoli stati e dei singoli governi Di procedere e di scegliere le proprie strategie nazionali più adatte Cosa sta avvenendo? Che non tutti i paesi, non tutti gli stati oggi intervengono in modo volontaristico Per accentuare la lotta ai cambiamenti climatici e il contenimento dei gas a effetto serra Tanto è vero che Bonn già si dice che non avrà un grande successo positivo Perché? Perché la parola d'ordine a Bonn, che cos'è? Attenzione, lo diciamo ai nostri telespettatori Dialogo facilitativo Cioè tutti insieme la comunità internazionale, l'ONU e gli scienziati Hanno il compito di persuadere ciascun paese attraverso il dialogo E facilitare che volontaristicamente poi si carichino di più Della possibilità di contenere l'emissione di CO2 Utilizzando che cosa? Meno carbone e meno petrolio Allora vediamo invece chi parla assolutamente chiaro rispetto a quello che c'è da fare Ossia i manifestanti che prima di questo incontro sono scesi in piazza a Bonn per chiedere di smettere di utilizzare il carbone Vediamo Diverse migliaia di persone sono scese in piazza a Bonn in Germania per il clima I manifestanti hanno chiesto azioni più incisive contro il riscaldamento globale In particolare la fine del ricorso al carbone In vista dell'avvio dei lavori della conferenza ONU sul clima COP23 Sia la giustizia climatica, no al carbone È lo slogan che i manifestanti hanno scandito per le strade di Bonn Dirigendosi verso il centro ONU dove si riuniranno i rappresentanti di 196 paesi per la COP23 Con l'obiettivo di dare applicazione all'accordo di Parigi firmato nel 2015 Affrontare il cambiamento climatico significa eliminare rapidamente i combustibili fossili Tra cui la combustione da carbone Si legge nel comunicato diffuso prima della manifestazione da oltre 100 organizzazioni della società civile Oggi vogliamo dire a chi resta chiuso in casa a parlare senza fare mai niente Che c'è bisogno di azione per salvarci e per salvaguardare il nostro pianeta Ha detto un attivista cieca Il carbone rappresenta circa un terzo del consumo energetico mondiale E resta la principale fonte di produzione di elettricità nel mondo Pari al 40% La domanda di carbone ha subito un'inflessione specialmente negli Stati Uniti Ma a livello mondiale dovrebbe aumentare almeno fino al 2030 Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia Una crescita che minaccia gli obiettivi dell'accordo di Parigi Di contenere l'aumento della temperatura terrestre La conferenza COP23 in programma dal 6 al 17 novembre Sarà preseduta dalle isole Figi Una delle aree più a rischio a causa del riscaldamento globale Allora è proprio il carbone uno dei punti fondamentali Per determinare le politiche ambientali dei vari Stati L'Europa se possa abbiamo detto prima degli obiettivi precisi Però in realtà vediamo che anche a livello locale delle comunità a noi vicine Comunque questa scelta di abbandonare le fonti fossili In realtà non è una scelta praticata con decisione Addirittura in alcuni casi sembra lontana, lontanissima Negli Stati Uniti alcuni stati addirittura hanno rialimentato la corsa alle fonti fossili Per cui è una situazione veramente gravissima E' proprio come dici tu E' vero come diceva il servizio che in questi anni gli Stati Uniti hanno diminuito il ricorso al carbone Ma cos'è successo? Con l'avvento di Trump le cose non stanno più così Perché Trump ha tolto il limite che aveva posto Obama allo sfruttamento del carbone e dei giacimenti di petrolio Ha tolto questo limite e quindi a questo punto gli Stati Uniti possono con la giustificazione dell'occupazione Stanno riaprendo le miniere e sfruttando ulteriormente carbone e giacimenti di gas shell e di petrolio Ma molti scienziati e molti economisti statunitensi stanno dicendo che è una più illusione quella che si crei più occupazione Perché nel frattempo la tecnologia è diventata più raffinata anche sui metodi di estrazione Quindi in realtà dire cerchiamo ancora di sfruttare il carbone non è vero che aumenterà l'occupazione Perché nel frattempo c'è stato appunto questo salto di qualità nella capacità tecnologica di sfruttamento Non solo, ma gli scienziati calcolano che proprio con le politiche di Trump Già l'aumento della temperatura del pianeta Gli Stati Uniti con il fatto di liberalizzare, privatizzare lo sfruttamento del carbone Perché il carbone negli Stati Uniti ha giacimenti che sono di proprietà dello Stato Ma lo Stato adesso con Trump darà concessioni a chi lo vorrà per sfruttare appunto questi giacimenti Il calcolo è che gli Stati Uniti contribuiranno adesso per lo 0,3% di aumento complessivo del clima nei prossimi anni Già adesso, attenzione, se non si interviene in modo più drastico, malgrado la buona volontà dell'Europa Ma soprattutto da parte dei grandi inquinatori Il primo è la Cina, la seconda sono gli Stati Uniti Se non si interviene già oggi con le misure prese a Parigi Abbiamo la previsione, la proiezione che l'aumento della temperatura si attesterà tra i 2,7 e 3 gradi centigradi in più Altro che contenerlo entro il grado e mezzo che dovrebbe essere l'impegno anche della COP23 Che lo diciamo se non l'abbiamo detto ai nostri telespelatori Semplicemente significa la conferenza mondiale delle parti Che si trovano appunto a Boni in questo caso e quindi le parti sono tutti gli Stati e tutti i governi del mondo Ormai anche dagli Stati Uniti diventa quasi innegabile la responsabilità dell'attività umana nell'inquinamento Quindi nel surriscaldamento globale Ci sono stati dei documenti recenti che hanno proprio sottolineato questa verità Anche il no all'Agenzia degli Stati Uniti che si occupa di meteorologia Ha pubblicato l'ultimo rapporto con 12 agenzie governative Confermando che l'innalzamento appunto delle temperature Sono dovute alle emissioni di gas serra Le quali sono conseguenza dell'attività umana Quindi una verità che si sapeva Di cui si è sempre parlato Che è stata negata da Trump Ma che adesso anche la Casa Bianca deve in effetti riconoscere Anche il recente G7 che c'è stato a Milano Sulla salute, incentrato sulla salute Ha dovuto constatare l'importanza e soprattutto il peso Che l'inquinamento purtroppo ha sulle patologie Che sono appunto in corso Per cui vediamo questo servizio sulla Casa Bianca Che dà l'ok in effetti al rapporto sul clima Che accusa l'uomo E chiediamoci poi che cosa a questo punto potrà mai fare Trump Davanti a questa realtà che ha cercato di negare Ma che è innegabile Vediamo L'attività umana è probabilmente la causa dominante Del riscaldamento globale La Casa Bianca prima ha dato l'ok Poi ha tentato di minimizzare il documento approvato Dalla stessa amministrazione Trump Sul cambiamento climatico Lo studio, realizzato da 13 agenzie federali statunitensi Va contro le posizioni del presidente americano Donald Trump sul clima Il secondo portavoce della Casa Bianca, Raj Shah, scrive la BBC Ha dichiarato che il reporto è sostenuto da analisi e dibattiti scientifici rigorosi Ma ha aggiunto Il clima è in costante cambiamento e non è chiaro quanto sia sensibile all'aumento dei gas serra Il reporto scientifico For National Climate Assessment Quarta valutazione nazionale del clima È stato commissionato dal congresso americano E viene pubblicato ogni quattro anni Il documento è stato approvato dall'Accademia Americana delle Scienze E ha ricevuto il semaforo verde della Casa Bianca Per essere reso pubblico Secondo il documento, la temperatura media degli Stati Uniti è aumentata rapidamente Dal 1980 a oggi E gli ultimi decenni sono stati i più caldi Le stime erano state rivelate lo scorso agosto dal New York Times Ecco, anche in Italia, come negli altri paesi Bisognerà prendere dei provvedimenti Legambiente ha questo proposito anche presentato Una sua proposta per far sì che ci sia un piano nazionale Di adattamento coerente con questi obiettivi che sono stati posti E che soprattutto si esplichi attraverso L'aggressione degli sprechi che ci sono E delle attività che vanno a danno dell'ambiente E dell'ecologia Quindi un ruolo fondamentale Dicevamo, deve svolgerlo però gli Stati Uniti Deve svolgerlo Trump Certo, ma guarda Sugli Stati Uniti Il servizio diceva giustamente Che hanno permesso anche la pubblicazione ufficiale Da parte di alcune agenzie federali importanti Perché è, diciamo così, altalenante oggi La scelta di Donald Trump Da un lato ha messo a capo dell'Agenzia dell'Ambiente Che è la più importante E che non era tra queste Che sostengono queste cose Scott Pruitt E Scott Pruitt non solo è un convinto Diciamo così negazionista Che sia l'uomo e l'attività umana A essere responsabili dei cambiamenti climatici Ma addirittura ha fatto un passo veramente regressivo E medioevale Togliendo dallo statuto dell'Agenzia statunitense per l'ambiente Il primato e la voce della scienza Ha tolto la parola scienza Dal ruolo che l'Agenzia ha Quindi gli scienziati sono semplicemente cittadini Che esprimono pareri Non sono quelli che invece attraverso studi, prove scientifiche Dimostrano una cosa piuttosto che l'altra Quindi come capite Da un lato l'amministrazione Trump Fa questo passo indietro Con l'Agenzia dell'Ambiente Con Scott Pruitt Dice no ma la scienza Sono pareri come gli altri Non solo Trump sta cercando di rivedere Quello che si chiama E che Obama aveva approvato Il costo sociale Per ogni tonnellata di CO2 Emessa in atmosfera Pensate che ormai siamo in grado A livello economico e ambientale Di definire quanto Un'emissione di una tonnellata di CO2 In atmosfera costa Per quanto riguarda la società Che vuol dire quello che tu dicevi Il ripristino di situazioni ambientali Il cercare di pulire l'aria La questione della prevenzione E soprattutto la questione della cura di chi si mala Anche di cancro E anche di tutta una serie di malattie Che dipendono Dalle alterazioni climatiche Dalle emissioni di polveri sottili E quant'altro Quindi c'è un costo sociale Questo costo sociale È stato definito In 36 dollari Per ogni tonnellata emersa Ebbene Trump vuole rivedere Questo costo sociale Dicendo no dobbiamo diminuirlo Dobbiamo dire che in realtà Il costo sociale è meno Ma tutto come volontà politica arbitraria Dall'altro però Proprio perché c'è anche un elettorato Negli Stati Uniti Anche nel partito repubblicano Che non è che fa solo gli interessi Dei petrolieri E dei produttori di carbone Si rende conto che rischia di isolarsi Rispetto al contesto mondiale Perché non è solo l'Europa Sono tanti paesi del sud del mondo Che pagano un prezzo grosso Proprio ai cambiamenti climatici Per esempio l'isola Fiji Il cui presidente oggi Dirigerà i lavori a Bonn Della conferenza delle parti È uno delle isole Che rischia di andare sommersa sott'acqua Se i cambiamenti climatici Provocheranno Come in parte stanno già provocando L'innalzamento degli oceani Ecco allora Trump Di fronte a questa opinione pubblica Interna e mondiale Non impugna più Come aveva detto all'inizio Io esco unilateralmente Dall'accordo di Parigi Dalla conferenza di Parigi E quindi dall'accordo internazionale Ma forte sul fatto che anche a Bonn Come dicevo Si punta sulla responsabilità Dei singoli stati In termini di volontarietà E di limiti volontari Lui dice Io voglio non negoziare l'uscita O l'entrata Ma voglio ritrattare Con la conferenza di Parigi E oggi con Bonn Il fatto che io posso avere Possibilità di utilizzare Molto di più ancora Sia il carbone E che il petrolio E che dunque I limiti di emissione di CO2 Per gli Stati Uniti Vengono ulteriormente ammorbiditi Di modo che io posso ancora Continuare a sfruttare Le mie industrie Il carbone Il petrolio E le fonti fossili Ecco perché Dicevo Gli scienziati Stanno dicendo Guardate Che gli Stati Uniti Però adesso Daranno Cominceranno a dare Un contributo in negativo In più all'aumento complessivo Di tutto il pianeta Della temperatura Uno dei grandi inquinatori Invece è la Cina Lo sappiamo Però pare che magari Qualche prospettiva positiva Possa venire addirittura da lì Per quanto riguarda L'ambiente In futuro Intanto prima di fare Queste considerazioni Vediamo un po' Cosa è successo Non ne abbiamo ancora parlato Ma in Cina C'è stata la riconferma Di Xi Jinping Alla guida Del partito comunista Quindi vediamo Questo servizio E poi vediamo Di capire Che cose in effetti La Cina può fare O intende fare Per Diciamo Fermare Il surriscaldamento Del pianeta L'inquinamento Vediamo Il presidente Xi Jinping È stato confermato Per altri cinque anni Alla guida Del partito comunista cinese Il comitato centrale Lo ha eletto Segretario generale Insieme ad altri Sei membri Permanenti Dell'ufficio politico L'organo che di fatto Detiene il potere In Cina Parlando alla stampa Con al fianco Gli altri sei esponenti Del politburo Tra cui il premier Li Keqiang Xi Jinping Ha ringraziato Il comitato centrale Per avergli offerto Un nuovo mandato Lo prendo non solo Come un'approvazione Del mio lavoro Ha detto Ma anche come Un incoraggiamento Che mi spingerà Ad andare avanti Salito al potere Alla fine del 2012 Xi Jinping Si è così garantito Un nuovo mandato Presidenziale Nel marzo del 2018 Capo del partito Capo di stato Capo delle forze armate Dal suo insediamento Xi Jinping 64 anni Ha accumulato carichi Al vertice Della seconda potenza Economica mondiale E ha guidato E ha guidato un rafforzamento Dell'autorità del regime L'inclusione Del suo nome Del suo pensiero Nello statuto Del partito Come è accaduto In passato Con i suoi predecessori Mao Zedong E Deng Xiaoping Indica l'intenzione A voler rimanere A tempo indefinito A capo del paese Senza doversi Preoccupare Del limite di età 68 anni E di dover Scegliere un successore Limite di età Che invece Potrebbe continuare A far valere Per gli altri membri Permanenti Del politburo Che oggi hanno tutti Attorno ai 60 anni Un dato che sta a indicare Come il presidente Si sia circondato Di una squadra dirigente In cui spicca L'assenza di un presunto Delfino Che possa fargli ombra Xi Jinping Dovrebbe essere Formalmente rieletto Alla guida dello Stato A marzo 2018 Durante la sessione Parlamentare annuale Così come il premier Li Keqiang 62 anni Dovrebbe essere Confermato Alla guida Del governo E al di là Della lotta Che oppone la Cina Agli Stati Uniti Per il primato Nell'economia mondiale C'è questa grande sfida Che adesso si apre E che vede la Cina Potenzialmente Come una potenza Che può diventare Egemone Nel mondo Per le energie rinnovabili C'è un progetto Addirittura Che risale al 2010 Allora era Un po' un progetto Quasi un sogno utopico Adesso con le tecnologie Sembra anche Possibile Fattibile Ci sono Tanti scienziati Che studiano Su questo Questo grande progetto Che vuole sfruttare In maniera Massiccia L'energia Solare L'energia eolica Per esempio Dai deserti Quella solare Dall'Artico E dall'Antartica Quella eolica E farla convergere E distribuire In tutto il mondo Grazie a dei sofisticati E innovativi sistemi Quindi Secondo questo progetto Della State Grid Corporation Sarà possibile Nel 2050 Produrre addirittura Il 90% Dell'elettricità Con fonti rinnovabili A livello mondiale Quindi rendere Il mondo Per il 90% Diciamo Dipendente Da fonti Rinnovabili Un passo Veramente importante Che coinvolgerà Tutto il mondo Tutte le potenze Ovviamente Dietro a questo Cammino aperto Dalla Cina Certo Ma intanto Diciamo Come diceva Giustamente Il servizio Che la Cina Ormai È la seconda Potenza mondiale Da tutti i punti Di vista Anche dal punto Di vista militare Non solo Economico In più Rispetto Agli altri Paesi concorrenti Diciamo Stati Uniti C'ha anche Una forza Demografica Straordinaria Ormai Sono O più Di un miliardo E trecento Milioni di persone E Rispetto All'isolazionismo Che sta Scegliendo Trump Oggi La Cina È Un po' Tutto E il contrario Di tutto È il primo Inquinatore A livello Mondiale Però Come dicevi Tu È anche Quello Che ha Aperto Il fronte Più ampio Anche perché Sono tanti Dal punto Di vista Demografico Il fronte Più ampio A favore Di tutto Quello Che è Innovazione Dal punto Di vista Delle energie Sostenibili Quindi Oggi La Cina È un laboratorio Interessantissimo Perché Da un lato Proprio per L'isolazionismo Di cui parlavo Prima di Trump Ormai È il primo Partner Economico Commerciale Industriale Dell'Africa È La Cina È il primo Paese Presente In Africa Come tecnologia Anche Di radio Televisioni Informative È il primo Paese In Africa Per quanto Riguarda Costruzioni Gigantesche Di dighe E costruzioni Gigantesche Di infrastrutture Ferroviarie E autostradali Che hanno Una pesantezza Sulla Produzione Di CO2 Dall'altro Sta proponendo Con La nuova Strategia Della Via Della Seta Rapporti Commerciali E Rapporti Sempre più Veloci Anche Con L'Europa Alcune Grandi Vie Di trasporto Dei prodotti Cinesi Avranno Una via Preferenziale Attraverso Il centro Asia Fino ad Arrivare Nel cuore Dell'Europa Dunque Un paese In via Di espansione E anche Qui sottolinea Una cosa Che ha detto Il servizio Ma che voglio Sottolineare Xi Jinping Non è un presidente Come quelli Che immediatamente L'hanno preceduto Per esempio Avete visto L'anziana L'anziana Persona Seduta Al suo fianco Yan Zemin Non ha Non aveva Tutto il potere Che ha Xi Jinping Perché Si avevano Le stesse cariche Ma Xi Jinping È davvero Come ha detto Il servizio Paragonabile Oggi in Cina Al potere Stordinario Che a suo tempo Aveva Mao Zedong E poi Soltanto Al potere Successivo Che aveva Ten Xiaoping Suo padre Di Xi Jinping È stato Vice Presidente Del governo Insieme a Primo ministro Scusate Insieme a Chuen Lai È stato Stretto collaboratore Dell'innovazione E dell'apertura Della Cina All'economia Mondiale Con Ten Xiaoping Il pragmatismo Di Ten Xiaoping E oggi Il pensiero Di Xi Jinping A differenza Dei suoi Predecessori Quelli immediatamente Ma lo stesso Livello di Mao E di Ten Xiaoping Entra Nella Costituzione Addirittura Della Della Cina E Non solo Si sta Candidando Ovviamente È già candidato È già stato Nominato I prossimi Cinque anni Ma Il suo Pensiero E la sua Strategia Andrà Anche Oltre C'è stato Uno scontro Durissimo Con i suoi Rivali E attraverso Una campagna Anticorruzione Anche Strumentalizzata Poi davvero C'è una Corruzione Diffusa In Cina Negli alti Gradi Economici E negli alti Gradi del Partito Ma con Questa Campagna Di Anticorruzione Ha fatto fuori I suoi rivali E adesso Sta plasmando I gruppi Dirigenti Cinesi Su questa Grande strada Di crescita Economica Politica Militare Tecnologica E ovviamente In modo intelligente Sono tutti Quasi tutti Tecnici I dirigenti Della Cina Lui è un ingegnere E apre A questa Prospettiva Che dicevi tu Anche per esempio Privilegiando E quando diventerà Fra pochi anni Una cosa diffusa Ci sarà un bel cambiamento Anche in Cina Per esempio Le auto elettriche Quindi stanno Investendo Sulle auto elettriche Stanno investendo Sulle energie Rinnovabili E su tutte le nuove Tecnologie E addirittura Accettano Che ci siano Indipendenti Rappresentanti Delle esigenze Diciamo così Degli ambientalisti Che abbiano voce In capitolo Quindi Addirittura Permettono Che ci siano I media In Cina E alcuni Importanti Esperti Di primato Delle questioni Ambientali Che possono influenzare Anche il governo Ma perché? Perché il governo Vuole utilizzare Anche queste spinte All'ambiente Alla tutela Della salute Per cercare Di conquistare Il consenso Di tanti cittadini E per spostare Anche Le investimenti Economici Su queste nuove frontiere Che faranno Della Cina Una potenza Ancora più grande E importante A livello mondiale Sicuramente Con questo Siamo arrivati In chiusura Ti ringrazio Marco Come sempre Ringrazio tutti I nostri telespettatori Grazie a tutti voi Grazie a te Susanna Ehi Ehi Sì